eccoci qua siamo ancora noi 4 agosto 2013 e dove siamo? in un posto molto scomodo è vero? io avevo trovato un bel porcino dove? ecco qui fammelo vedere ti raccogli te? si tiralo bene provo che bello stupendo e vai si è un po' bellissimo ok dai lo mettiamo nel cestino e continuiamo ciao a tutti saluti gli amici youtuber ciao a tutti ciao 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 procino